La Lucchini Spa diventa Cevital. È questa la tanto attesa notizia arrivata oggi dal Comitato di Sorveglianza e ha riunitosi a Roma per deliberare sulla proposta formulata dal Commissario di Governo, Piero Nardi. Troppo evidente il divario tra le due proposte in campo, Gindal non ha potuto tenere testa all'offerta del gruppo algerino, nettamente superiore sia sul piano economico che industriale. Così, dopo approfondita analisi, si è arrivati alla sospirata decisione. Oltre alla Lucchini Piombino, passano di mano la Lucchini Servizi e la Vertec. Ora toccherà al Ministero dello Sviluppo Economico ratificare la decisione e attraverso lo stesso Commissario procedere prima al preliminare di vendita e successivamente alla cessione vera e propria della fabbrica. Probabilmente serviranno ancora sei mesi, ma il più è davvero fatto. Soddisfatto il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, che da noi raggiunto in comune ha dichiarato testualmente non si è trattato di un miracolo, bensì del frutto di un lavoro sinergico. Non direi un miracolo. È una operazione che è riuscita bene. Quindi una grande operazione tecnica di programmazione e dello sviluppo di un territorio. È su questo che noi avevamo puntato. Quindi un plauso a tutte le istituzioni, a sindacati, a tutti quelli che hanno lavorato nella progettazione di questo progetto per Piombino e chiaramente a noi che ci siamo trovati nell'implementarlo, nell'insistere sulla proposta per Piombino perché poi il governo e tutti noi abbiamo creato delle condizioni molto importanti, molto favorevoli per Piombino aumentando la competitività territoriale dei territori appunto del sito industriale e quindi io penso che questa sia stata veramente un'operazione chirurgica che è stata apprezzata più all'estero che in Italia. Grazie a tutti.